Ebbene ci siamo, il Natale è giunto, è anche arrivato il momento di fare gli auguri, un buon Natale a tutta la nostra comunità. Questo è un periodo particolare, non ci saremmo mai sognati dove vivere un periodo con una pandemia di questo tipo, ma nonostante tutto ciò dobbiamo ricordare quali sono le nostre tradizioni, stare fermi su quelli che sono la nostra storia, i nostri principi, perché crediamo che il nuovo anno che verrà sarà sicuramente migliore. Però è importante avere un pensiero per le persone più debole, per le persone che stanno soffrendo in questo momento e pensare a una coesione, a lavorare tutti insieme per un rilancio del 2021, sicuramente un segno importante della ripresa e del rilancio della nostra comunità. Bene, io voglio cogliere questo momento per augurare a voi, a tutte le vostre cari, a tutte le persone, anche perché magari sono lontane in questo momento, un sereno augurio di buon Natale e felice anno nuovo da parte di tutta l'amministrazione comunale di Parabiago.